Assessore Fabio Falco, da quest'anno sarà presente anche Vado Ligure, quanto è importante lo sport e le amministrazioni comunali in una manifestazione sportiva? Ma è importantissima, quest'anno siamo anche noi coinvolti in questa manifestazione con molto piacere perché tutto quello che riguarda lo sport e la vita all'aria aperta in generale è importante per il comune di Vado, ha sempre collaborato con le varie associazioni sportive con un occhio di riguardo sia alle associazioni stesse che all'impiantistica proprio in questi termini c'è una fase di rinnovamento di tutto l'impianto del Chitolina dal punto di vista del terreno e dal punto di vista dell'illuminazione e della pista di atletica ed è in progettazione lì vicino il nuovo palazzetto dello sport, quindi questo è sicuramente una vetrina per tutte queste attività sportive che il comune supporta sempre con grande piacere.